Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è un video tag sono stata taggata da Rossella che appunto è anche l'ideatrice del tag Rossella del canale Logico Bio l'altra ideatrice del tag è Anna Lisa del canale Nel mondo di Anna Lisa è un tag che riguarda appunto YouTube e tutto il mondo di YouTube ho qua sotto le domande, sono 10 domande iniziamo con la prima come hai deciso di aprire un canale che è stata la sua muse ispiratrice? allora io avevo iniziato a guardare video un po' in giro per YouTube e ho iniziato con i video di Lalla e dopo di lei del signor JJ il signor JJ con il quale collaboro all'interno appunto del gruppo Piccoli Canali Power tanti anni fa aveva il canale come ce l'ha adesso poi per qualche anno si è stoppato come anche Lalla e poi si sono ripresentati entrambi quindi io guardavo i loro video e poi niente a un certo punto ho pensato vabbè ho un po' di prodotti potrei fare una prova, parlarne e vedere cosa viene fuori e da lì è nato tutto quindi in realtà i miei muse ispiratrici sono stati appunto Lalla e il signor JJ che tra l'altro lo sanno perché mi sembra che glielo dissi mi piacevano un sacco i loro canali, mi piacciono ancora e continuo a seguirli numero due che cosa ami di più di Youtube? allora di Youtube amo il... intanto lo scambio che c'è con le persone che sono iscritte al mio canale però amo anche e soprattutto quei rapporti, quelle amicizie che si sono create al di fuori del canale ma grazie al canale io ad esempio una delle mie più care amiche era una ragazza che mi seguiva che aveva vinto penso il primo giveaway o il secondo una roba del genere siamo qua diventate amiche sono anche andata tre giorni a casa sua lei sta dall'altra parte dell'Italia rispetto a me e ci sentiamo non spessissimo perché poi ognuno ha la sua vita però ci sentiamo spesso ci raccontiamo le nostre cose cosa è successo nella vita eccetera quindi lei la reputo una vera amica come anche reputo una vera amica Giulia del canale Kine Yoshimoto lei a differenza di Valentina che è l'altra mia amica che vi dicevo non è una spettatrice ma appunto è una creator e quindi anche con lei ho un vero rapporto di amicizia ma anche con il signor JJ e Rossella che sono gli altri ragazzi del gruppo piccoli canali power non voglio togliere niente agli altri partecipanti del gruppo è solo che con loro ho strinto un po' di più soprattutto nel periodo della quarantena che io ho fatto il primo mese che ero con la febbre stavo molto male e ero completamente sola in casa in auto quarantena quindi non vedevo mia mamma non potevo vedere nessuno in più stavo male ero preoccupata loro due ogni giorno ogni giorno mi scrivevano anche più volte al giorno per sapere come stavo ci si aggiornava un po' sullo stato di salute di tutti e tre mi mandavano magari dei video buffi per farmi tirare su il morale insomma veramente tutti i giorni per più di un mese si sono fatti sentire ci sono persone che recusavo amiche di ciccia qua che stanno nella mia città che ad esempio non hanno mai alzato la cornetta del telefono in quel periodo per sapere come stavo quindi ecco questo è quello che amo di Youtube e che non pensavo potesse esserci quindi questi rapporti amicali o di amicizia come si vogliono chiamare che però sono veri di persone che effettivamente si vede che ti vogliono bene e si interessano a te senza secondi fini quindi questa è la cosa che amo di più di Youtube poi che cosa odi di più di Youtube? allora io in realtà non è che odio qualcosa in particolare diciamo che tutti i vari litigi e casini che succedono non mi piacciono ma io appunto me ne tiro sempre fuori non entro mai non me ne frega niente mi faccio i cavoli miei quindi non è una cosa che mi tocca la cosa ecco che odio un po' di più scusate come al solito ogni tanto guardo di là ma laserino gatto eccetera comunque la cosa ecco che mi dà più fastidio sono i commenti cattivi che fortunatamente sotto i miei video mi è capitato un paio di volte e basta ma in generale commenti cattivi sotto a qualsiasi video l'altro giorno mi è capitato di guardare un video di un di un bambino perché avrà avuto tipo 12 anni quindi sei un bambino dove faceva vedere delle cose che aveva comprato da Tiger sotto c'erano dei commenti di persone adulte perché poi sono andata anche a vedere persone adulte che potevano essere la mamma di quel bambino di solito sono donne tra l'altro che appunto commentavano dei commenti pesi ammazzati sei noioso che canale di merda cioè è un bambino è un bambino che legge i commenti e che ci rimane malissimo come ci rimane male una persona adulta ma ha maggior ragione se sei un bambino ecco io queste cose non le concepisco mi fanno veramente arrabbiare perché alla cattiveria e non è vero che se capita fuori incontri una persona tu non li dici lo dicono lo stesso sono persone ignoranti e si comportano così nella vita di solito sono anche persone che sono sole hanno un amico in croce e non hanno un cavolo di nessuno e si sfogano in questa maniera qua su youtube quindi questa è una di quelle cose che io odio su youtube e un'altra cosa che a me non piace è quando e questo l'hanno detto penso un po' tutte quelle che ho visto le ragazze che hanno fatto questo video le persone si iscrivono al tuo canale commentano mi sono iscritto iscriviti anche te ci seguiamo allora io di base era un discorso che già volevo fare da un po' ogni volta che ricevo questo tipo di commento io vado a vedere il canale se il canale mi piace io mi iscrivo e non sto neanche a dire mi sono iscritta non è che sto a avvisare mi iscrivo e basta e poi seguo i video è ovvio però che se tu hai un canale dove parli che ne so di di videogiochi di piatti salati di non lo so di outfit di vlog è ovvio che io non mi iscriverò mai al tuo canale perché non sono canali che a me piacciono quindi io voglio che le persone che si iscrivano si magari hanno piacere e quindi ti iscrivono e ti iscrivono il commento e ok non c'è problemi però se io poi non mi iscrivo al canale mi farebbe piacere che loro continuassero comunque a seguirmi perché vuol dire che si sono iscritti al canale non per avere un'iscrizione di ritorno ma perché effettivamente sono interessati ai contenuti che porto poi se io mi iscrivo sono contenti ok però di base seguono il mio canale indipendentemente dalla mia iscrizione quindi questo poi spero di aver fatto un discorso in italiano che torna amicizie su youtube ve ne ho già parlato in realtà nell'altra domanda quindi io mi sono fatta delle amiche su youtube degli amici su youtube alcuni li conosco un po' di più altri un pochino meno però comunque sono persone che reputo in qualche modo amiche chi più chi meno sia per quanto riguarda persone iscritte che non hanno un canale sia per quanto riguarda invece persone che hanno un canale delusioni tradimenti e sotterfugi su youtube io non mi sono non mi sono mai capitati devo essere sincera ci sono state ci sono stati dei canali non farò nomi ci sono stati dei canali che con cui ho anche collaborato che poi per pensieri vi sto parlando di qualche anno fa pensieri personali che non ci combinavano niente con il mondo di youtube ma cose mie che erano poi che avevo messo su facebook queste persone hanno iniziato un'esclusione e quindi non si sono più fatte sentire dopo dopo tanto tempo visto che i loro canali non crescevano hanno iniziato a chiedere a dire ciao allora com'è non ci siamo più sentite mi segui ancora io ti seguo ancora ecco più che una delusione mi ha fatto un po' pena però ecco a me di base queste cose non piacciono io poi cerco sempre di fare finta di niente non dico nulla perché queste cose non mi interessa neanche perdere tempo non mi interessa perdere tempo dietro a queste cose però non sono stupida mi rendo conto delle cose e fate poi una figura di cacca fondamentalmente solidarietà femminile su youtube esiste non credo come non credo che esista nella vita al di fuori di youtube le donne sono sempre mi dispiace dirlo quasi sempre più stronzette calcolatrici degli uomini questa è la regione per cui io ho praticamente solo amici uomini e lo vedo anche qua su youtube che le persone che sono che sono interessate solo a crescere agli iscritti ad avere un ritorno nel loro canale quindi fare un po' dei calcoli cercare di sfruttare il più possibile il mio canale come il canale di altri sono di solito donne e comunque ragazze si capisce quando aprite un canale e pensate solo a crescere alle visualizzazioni si capisce poi se mi stai simpatica se ti seguo lo stesso quello è un altro discorso a me può piacere il tuo canale e io posso seguirti ma mi rendo conto che te stai cercando solo visualizzazioni e di conseguenza mi scadi anche un po' grandi influencer su youtube sono ancora credibili sincere e disinteressate verso marchi sponsorizzati allora secondo me c'è da fare un c'è da dire due parole su questa cosa qua allora sono d'accordo con simona del canale beauty passion lei ha parlato di giulia cova effettivamente giulia cova è una molto sincera molto schietta l'ho conosciuta come simona al di fuori di youtube ed è così come la vedete una persona stupenda chiusa questa parentesi le grandi influencer io intendo quelle che hanno tanti numeri partiamo dal fatto che le sponsorizzazioni vengono pagate e io ho visto c'era una youtuber famosa adesso mi sfugge anche il nome solo per una foto di instagram una foto non un video prendeva 800 euro 800 euro sono un mese di stipendio di mia madre che fa loss e pulisce i culi alle persone parlo in maniera schietta si fa un culo enorme tutto il mese tutti i giorni lei lavora come un ciucco e prende 800 euro al mese se a mia mamma gli proponessero guarda metti la foto di questo shampoo io ti do 800 euro sicuramente direbbe di sì come direi di sì io e come diresti di sì tutte non ci prendiamo in giro ok quindi se si tratta di fare 3000 euro al mese la butto lì girando dei video e mostrando prodotti è un lavoro io direi di sì qui si sta confondendo un po' alcune cose non è più come 15 anni fa 10 anni fa i lavori sono cambiati alcuni lavori sono spariti perché non usano più altri lavori invece sono nati perché con le tecnologie siamo andati avanti sono nati nuovi lavori lo youtuber l'influencer è un lavoro ci può piacere non ci può piacere uno può dire io lavoro in fabbrica 18 ore al giorno mi faccio il culo ma non fate niente ok è legittimo ma comunque è un lavoro che ci piaccia o no quindi se è considerato come un altro lavoro è normale che sia un lavoro non mi pongo nemmeno il problema se sono disinteressati o no al marchio che propongono non mi interessa so che è un lavoro e non ce l'ho con loro perché lo faremo tutti è inutile cioè si fa presto a dire la sincerità di qui di là un sacco di discorsi ma in realtà tutti accetteremo mille euro per fare un video soprattutto nei mesi che siamo con l'acqua alla gola che non abbiamo lavoro bisogna pagare le bollette dare da mangiare a figlioli quindi è un lavoro va visto come un lavoro e non come un'amica che ti dà dei consigli secondo me per quanto mi riguarda poi io ad esempio mi addormento le cose qua si capiscono basta guardare il video quello che propongono si capisce se lo fanno perché è una sponsorizzazione oppure no io prima di dormire guardo video di decluttering dei make up perché mi rilassa e poi mi addormento tutte le influencer buttano o regalano gli stessi prodotti che sono prodotti che le aziende hanno omaggiato così per sponsorizzazione a chiunque guarda caso tutte le regalano quindi cosa vuol dire che effettivamente magari i prodotti non sono così buoni se su 10 influencer 10 regalano tutte quella palette ok basta un po' guardare quello che succede però comunque lo considero un lavoro quindi non è che mi pongo tanto questa domanda cosa cerca la gente su youtube e sui social non lo so io penso a me io cerco un momento di come diceva anche simona di svago per staccare la testa a volte perché ho quei 10 minuti non so che fare riguardo a un video quindi a volte anche per noia per passare il tempo per cercare dei consigli degli spunti per sapere se ci sono delle novità riguardo a qualcosa ma anche per avere un po' di compagnia magari mi ritrovo io abito da sola cena pranzo che sono da sola al tavolino metto il video di qualcuno e seguo il video e mi fa compagnia quindi ecco almeno io youtube lo seguo per questo cerco queste cose qua ecco dè un consiglio a una collega che consideri top allora se la considero top non ho consigli da dargli comunque secondo me le persone top esclusi i membri del gruppo piccoli canali power che comunque se ci sono insieme si è creato anche un po' un rapporto di amicizia ovvio che mi piacciono e li considero top oltre a loro Simona Beauty Passion che vi ho già nominato Sara Cosmesi mi piace un sacco vediamo io ne seguo tantissime quindi non è se non nomino qualcuno non è perché non reputo top ma è solo perché in questo momento non mi è venuto in mente Titiana del canale Titiana Lu mi piace un sacco molto genuina è carina mi piace tanto mi piace anche Basic Gaia nonostante sia un grande canale non un piccolo canale però a me piace stavo cercando eccola Valentina non mi ricordavo come si chiamava il tuo canale Vale Beauty Channel mi piace molto quindi anche lei per me è top ecco bene o male questi sono i canali che io reputo top e che seguo ce ne sono altri però vi nomino non tanto questi dai un consiglio a una collega che reputi flop se vuoi fai il nome allora il nome non lo fa però in generale facciamo un discorso generale per non parlare di una persona sola tornando al discorso delle persone che fanno un po' finta di essere amichette ma in realtà sono tutto hanno tutto un canale costruito e cercano solamente di crescere di fare visualizzazioni commenti click prendere anche un po' di iscritti da te ecco ragazzi si nota si vede fate ridere io faccio finta di niente come al solito ma si vede e non fate una bella figura e inoltre secondo me i primi tempi riuscite a crescere poi se ne accorgono anche le persone che vi seguono e non crescete più rimanete in stallo per quanto mi riguarda per quello che credo io e penso io si vede che poi non siate genuine magari siete preparatissime fate dei video di qualità ottima sfondo bellissimo un sacco di parole non vi inceppate mai quando parlate tutto quello che volete però si vede che è una cosa costruita e almeno io ma come anche parlando con altre persone in tante quando guardiamo dei piccoli canali è perché cerchiamo qualcuno di genuino un po' come guardare un'amica che ci racconta delle cose e vedere una persona con mille iscritti 500 iscritti 2000 iscritti che è tutta impostata come un influencer da un miliardo di iscritti stona e ecco alla lunga stanca non è quello che poi alla fine cerco perché se voglio quel genere di persone impostate vado a vedere un canale di una un canale grande ecco quindi si nota è ridicolo non vi porterà niente alla lunga vi create poi delle brutte situazioni con altre persone quindi evitate cercate di andare avanti in tranquillità e inoltre altra cosa che vi consiglio quando cercate appunto di crescere di prendere iscritti di fare collaborazioni di fare le amiche o gli amici insomma cercate anche di capire che canale avete di fronte io non sono una che cerca di fare di youtube un lavoro e non sono una che cerca di fare un miliardo di iscritti quindi è ovvio che se voi cercate gli iscritti cercate di crescere con i numeri e volete collaborare con me siamo su due strade completamente diverse perché io prendo youtube come un hobby questo discorso parlo per me ma parlo anche per tanti che io conosco ecco in tanti ci siamo ritrovati con gente che appunto sembravano amiche volevano collaborare un sacco di discorsi e poi quando si sono resi conto in fondo che noi per noi era un hobby sono rimaste così quindi oltretutto in questo modo perdete anche tempo oltre alla figuraccia detto questo l'ultimo punto è tagga chi vuoi io non taggo nessuno chiunque voglia fare questo tag invito appunto se avete voglia fate il tag però mi raccomando se girate il video tag linkatemi il vostro video qua giù nei commenti così io non me lo perdo e magari anche le altre persone che sono state interessate appunto che sono interessate a questo tag possono vedere altri video quindi mettetelo giù nei commenti così condividiamo hanno un po' una sorta di collaborazione mettiamola così quindi il video finisce qua ringrazio voi per aver seguito il video ringrazio le ideatrici di questo tag se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento fatemi sapere cosa ne pensate di queste domande che trovate giù nell'info box anche se siete solamente delle spettatrici datemi il vostro feedback su queste cose iscrivetevi anche al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao